E abbiamo ufficialmente ragazzi il primo 0 a 0 di questo mondiale assurdo tipo no tipo senza tipo al girone C ultima giornata 0 a 0 il primo 0 a 0 Francia da Nimarca Allora posso dire che era prevedibilissimo perché sono due squadre che non segnano manco con le mani Cioè io mi ero giocato under 3 e mezzo qua presa ma potrò giocato pure under 1 e mezzo cioè nel senso ragazzi queste due squadre non segnano manco con le mani La Francia ha segnato sempre magari su un tiro da fuori un tocco del campione io ve l'ho detto al mio giorno ho detto la Francia più non vincerà niente Poi c'è sta che vince tutto perché sei campioni e te la decidono le vinci tutte 1 a 0 vinci il mondiale c'è poco da fare Però insomma ancora adesso sembra che la Francia non ingrani cioè la Francia ragazzi non ha un'idea del gioco la Francia non gioca Ma magari a voi mi è piaciuto di più a me mi è piaciuto forse nel secondo tempo un po' di più qualche sprizzo qui e lì Ma davvero ragazzi per il resto mi sta casca pure il telefono Eccolo intanto ha fischiato qualcosa eccolo ho rimesso a posto il telefono Stavo dicendo più che altro quando è entrato Fekir magari ho visto qualcosina un po' de sprizzi e de sprazzi che correva sulla fascia due volte andato vicino al gol Però ragazzi secondo me la Francia è veramente poca cosa poi ovviamente passano primi Se è passata la Spagna prima possono passare veramente tutti i primi ragazzi veramente tutti La Francia che vi dico la verità non mi è piaciuta ma nemmeno a di che meritasse la Danimarca Alla fine partitella giusto scapoli contro ammogliati per prendersi il punticino Mi fa chiarire perché il commentatore faceva la Danimarca è vicina al sogno La Danimarca sta sperando La Danimarca aspetta solo che finisca questa fase La Danimarca ragazzi sta in vacanza da fine primo tempo Cioè l'Australia ha perso col Peru Poteva pure farne 12 il Peru Cioè per essere minata la Danimarca avrebbe dovuto perdere con due reti di scarto E l'Australia ribaltare da 2 a 0 a 4 a 2 il Peru Ma di che cosa stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando? La Danimarca c'era praticamente in tasca la qualificazione Nell'altra partita ragazzi il Peru Oggi mi è piaciuto Oggi aveva solo il Peru praticamente Però Però Peru Però boh Non lo so Allora la cosa che mi piace tanto dei mondiali è che il Peru Fra l'altro adesso stanno esultando Sono tutti felici e contenti Mi piace un sacco come immagine Ma Al di là di questo Il Peru che sa già che è fuori Che vince nonostante sia eliminata E che esulta Si abbracciano Piangono in campo Perché hanno fatto 3 punti al mondiale È bello Non siamo tutti La Francia La Spagna La Germania L'Inghilterra Metto anche l'Italia Perché abbiamo 4 mondiali Non siamo tutti squadre grandi Ci sono anche queste piccole emozioni Tutti i rifusi del Peru che cantano E sinceramente sono molto molto contento anche di vedere questo Detto questo Guardate io vi dico Quasi quasi alla Francia è andata bene Perché? Perché passa prima E probabilmente Potrebbe beccare l'Argentina Che sta più a pezzi di loro Cioè la Francia non ha un'identità di gioco L'Argentina non ha punto Cioè l'Argentina non è Non è nulla Quindi magari quest'anno L'Argentina che sta un pochino rincoglionita Potrebbe passare Dall'altra parte Dall'altra parte ragazzi Vediamo un po' Perché Se tanto mi dà tanto Dovrebbe essere Croazia Danimarca E sinceramente a questo punto Una delle due Ovviamente andrà ai quarti dei finali Quindi avremo una mezza sorpresa Perché quando arriverà lì La Croazia ai quarti dei finali Già che c'è Stagni in pista Ballerà eh Quindi io non sarei così scontato Che la Croazia Non riesca ad arrivare fino in fondo Non lo so Fatemi sapere insomma voi Che cosa avrebbe sembrato Di questa giornata Ovviamente noi ci vediamo questa sera Con il video Magari se riesco Faccio il video di cancelare la Juventus Nel pomeriggio Fatemi sapere come sempre Con un video di più Un dislike se mi ha fatto cagare Mi raccomando Ma fatemi sapere il perché Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Seguitemi su tutti i miei social Quindi Facebook Siquolf E Instagram Simone Siquolf Trattino basso official Dove di tanto in tanto Ma praticamente sempre Tutti i giorni A giorno Con dei sondaggi Dei contest Eccetera eccetera Ci saranno anche appunto Video su Instagram TV Quindi mi raccomando Non ve li perdete Ti ringrazio Come sempre per la visione Iscriviti o iscriviti in questo momento Buon shalala Ci vediamo sempre Su un prossimo video